Lei ha detto che bisognava prima abolire e poi riformare l'abuso d'ufficio e Di Maio le ha risposto di smetterla di dire stronzate. È offeso? No, guardi, oggi ho avuto l'onore di rappresentare il popolo italiano a Palermo ricordando quell'eroe che era Giovanni Falcone, portando degli risultati concreti nella lotta alla mafia. Io occupo il mio tempo lavorando. 15.000 immobili confiscati ai mafiosi, restituiti alle associazioni di volontariato, ai sindaci e agli italiani. 3.000 aziende tolte ai mafiosi gestite dallo Stato. 3.000 poliziotti assunti negli ultimi mesi per contrastare mafia, camorra e drangheta. Quindi non ho tempo per offendermi onestamente. Va bene, e qui cosa pensa quando Di Maio le dice di smetterla di dire stronzate? Cosa vuole che pensi? Che sono contento di quello che in questa settimana abbiamo fatto, ad esempio decreto sicurezza bis pronto. C'è provvedimenti contro i camorristi, contro gli scafisti, contro i teppisti da stadio a tutela di poliziotti e carabinieri. Ieri notte poi la Commissione Bilancio del Senato ha finanziato la proposta in legge della Lega per mettere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo per proteggere bimbi, anziani e disabili. Quindi rispondo lavorando. E quando Di Maio le dice che la Lega chiede il voto per buttare giù il governo e che voi giocate, lei e Giorgetti, a fare il poliziotto buono o il poliziotto cattivo? Domenica si vota per cambiare l'Europa, non per il governo italiano. Per cambiare l'Europa e riportare il diritto al lavoro, alla salute e alla sicurezza in Europa. Gli italiani pagano 6 miliardi ogni anno all'Europa e hanno diritto che l'Europa li considere di più rispetto a quello che hanno fatto fino a ieri. Quindi una Lega più forte in Europa è garanzia per gli italiani. Per il governo qua non cambia niente. Non chiederò mezza poltrona in più. È credibile, Marianne Aprile, tutto questo. Sull'abuso d'ufficio poi alla fine non abbiamo più parlato. No, no, guardi, io condivido sull'abuso d'ufficio le parole del procuratore, del presidente dell'anticorruzione Cantone. Bisogna modificarlo perché i corrotti vanno in galera, i ladri vanno in galera, gli spacciatori mafiosi vanno in galera. Però ci sono troppi fascicoli aperti che bloccano sindaci, bloccano imprenditori, bloccano associazioni che poi finiscono in nulla. Quindi condivido parola per parola l'analisi del procuratore Cantone. Quindi bisogna rivedere questa norma. Tra i sindaci bloccati dall'abuso d'ufficio è anche quello di Riace, Mimmo Lucano che è sotto l'indagine. Se non funziona una legge va cambiata. L'Italia ha bisogno di correre, di lavorare, di aprire cantieri. Io però se posso ho due domande. Alla luce dei risultati nella lotta alle mafie rivendicati adesso dal ministro, come si spiega allora la posizione durissima che Fava dell'antimafia ha preso proprio oggi in occasione delle celebrazioni? E se è vero, come da indiscrezioni di stampa, che nel decreto di sicurezza bis rivisto ci sono anche misure che inaspriscono il trattamento che si riserva a chi manifesta in pubblico anche pacificamente? Cioè nel decreto sicurezza bis ci sarebbero delle misure di limitazione della libertà di manifestazione? No, figurati. Non ci sono. È qua. Il decreto sicurezza bis è questo. Mentre su Fava cosa c'è? Lo giro via WhatsApp e c'è un articolo che aumenta le sanzioni nei confronti di chi con scudi, caschi, manganelli, petardi aggredisce poliziotti, carabinieri o vigi del fuoco in servizio. Questo sì. Io adoro la democrazia. Oggi ho incontrato la professoressa di Palermo dicendo che la sospensione è stata sbagliata e quindi dandole appuntamento a scuola per confrontarmi sull'Italia che verrà. Ognuno è libero di dire quello che vuole. Chi mette le mani addosso i poliziotti però in un paese civile va in galera. Su Fava, oggi mancavano Fava e Orlando, due esponenti della sinistra che hanno detto se c'è Salvini io non vengo alla commemorazione di Falcone ha risposto la signora Falcone dicendo che la lotta alla mafia dovrebbe unire. Per unire e portare i risultati di un'Italia più sicura perché la mafia verrà sconfitta dallo Stato. Chi non viene perché non ha in simpatia Salvini non fa un dispetto a Salvini. Fa un dispetto alla memoria di Falcone e delle ragazze della scorta. Le motivazioni non hanno l'antipatia. No, le motivazioni non erano la simpatia o l'antipatia anche perché siamo di fronte a un problema così serio che... appunto. Ma la lotta alla mafia dovrebbe unire tutti gli italiani. Dovremmo essere tutti uniti per combattere la mafia. Ma io assumo poliziotti, porto via ville e negozi e abbatto le ville dei Casamonica. Questo faccio da ministro antimafia. Senta, Salvini, le devo però lo stesso chiedere cosa farete dopo le elezioni europee. Perché o dovete cambiare il contratto di governo o cambiare il governo. Non so, qualcosa dovete fare? Perché le faccio un piccolo elenco su tutti i temi sui quali siete in netta contrapposizione. Lei e Di Maio. La TAV, le autonomie, la famiglia, l'immigrazione, sicurezza, cannabis legale, giustizia, il Venezuela, salva Roma, eccetera. Lo sforamento del 3%. Come fate a fare finta di niente lunedì prossimo? Basta rispettare quello che c'è scritto nel patto di governo. Quindi la riduzione delle tasse su cui nei 5 Stelle qualcuno dice c'è tempo, ne parleremo più avanti. Questa secondo me è l'emergenza nazionale. Ed è quello per cui chiedo i voti alla Lega per andare in Europa a cambiare i vincoli imposti dall'Europa che stanno portando precarietà e disoccupazione ovunque. Quindi far pagare alle imprese e alle famiglie italiane il 15% di tasse si può. E' già scritto nel contratto di governo. L'emergenza è fare ripartire il lavoro. Scusi, ministro, l'emergenza non è l'evasione fiscale nel nostro paese. L'evasione fiscale ovunque si combatte se riduci la pressione fiscale. In tutti i paesi al mondo dove hai abbassato le tasse hai sconfitto l'evasione fiscale. Più alzi le tasse più complichi la vita a chi deve pagare le tasse più aumenta l'evasione fiscale di chi non ce la fa, non può, non vuole. Con una tassa bassa l'evasore lo metto in galera come negli Stati Uniti. Però bisogna avere il coraggio di fare come Trump che ha portato al 21% la tassazione sulle imprese e gli Stati Uniti volano. Io voglio andare in Europa a rappresentare gli italiani che sognano. Non il posto precario di 15 giorni in 15 giorni in cooperativa perché altrimenti non ti costruisci un futuro. E si può fare. E' vero che con i 5 Stelle ci sono scontri sulla TAV ad esempio per fortuna ci sono le elezioni in regione Piemonte domenica. E' chiaro che se vince la Lega col centrodestra è la riprova che la TAV si fa perché serve. Oltretutto l'Europa ci darà altri soldi sul fronte italiano per le opere. Si fa anche se vince Chiamparino del PD la TAV perché a favore della TAV anche Chiamparino. Peccato che per anni quando il PD ha governato sia a Roma che a Torino la TAV sia rimasta ferma perché se il PD quando era il governo a Roma e a Torino avesse fatto il suo la TAV sarebbe già stata realizzata. Adesso il governo ci si sente pure da un anno quasi. Però fa niente. Però se fa fede il contratto di governo sul contratto di governo a proposito di TAV non c'è scritto che se vince la Lega in Piemonte si fa. C'è scritto che bisognava rivedere ridiscutere integralmente gli accordi una ridiscussione che potrebbe portare Se l'Europa ci dà più soldi e se il progetto costa meno si fa perché l'Italia ha bisogno di viaggiare ha bisogno di inquinare di meno. Salvini lei ha parlato di appunto l'Italia ha bisogno di viaggiare di sognare eccetera eccetera però poi c'è sempre la dura realtà con la quale anche voi vi dovete confrontare. Ieri c'è stata la tradizionale assemblea annuale di Confindustria nessuno dei big della Lega era presente e le vorrei intanto chiedere perché C'è un ministro buongiorno un ministro importantissimo quello che sta tagliando la burocrazia e sta riformando la pubblica amministrazione che è fondamentale per lo sviluppo del paese tagliare burocrazia e avere una macchina pubblica più efficiente Parlavo dei ministri che si occupano dell'economia del nostro paese Allora no mi veniva un po' il sospetto che forse nessuno di voi big della Lega è andato anche perché il presidente di Confindustria Boccia ha ricordato e si rivolgeva soprattutto a lei che le parole che producono sfiducia sono contro l'interesse nazionale Ma guardi io ieri ho incontrato agricoltori imprenditori studenti operai pugliesi e la Lega era rappresentata all'assemblea di Confindustria poi alcune previsioni anche del passato non si sono rivelate giuste penso a quota 100 alla legge Fornero tutti mi dicevano non ce la farai mai l'Europa mi diceva non toccarla e l'Inps mi diceva non toccarla la Corte dei Conti non toccarla la stessa Confindustria non toccarla 300.000 italiani quest'anno andranno in pensione e almeno 150.000 giovani cominceranno a lavorare grazie a quota 100 un'enorme opera di giustizia sociale quindi io rispondo a quei fatti questo è ancora quello che si chiama in inglese il wishful thinking nel senso che è la speranza che 150.000 ci sono già 150.000 che sono stati assunti ma guardi le faccio l'esempio sì i contratti stanno firmando nuovi contratti la Porto Vesma in Sardegna che è una delle più grandi fabbriche rimaste per fortuna in Sardegna andranno in pensione 150 operai sono assunti 100 nuovi operai quindi abbiamo restituito diritto alla vita 150 operai anziani abbiamo offerto un futuro sereno a 100 giovani sardi che altrimenti si avrebbero dovuto scappare l'Europa da questo punto di vista è fondamentale beh guardi io preferisco mantenere 150 ragazzi in pensione li chiamo ragazzi anche se hanno 65 anni e offrire un futuro a 120 anni piuttosto che inchiodare come pensava la Fornero fino a 66 o 67 anni donne e uomini sul posto di lavoro se lei mi chiede è il massimo a cui aspira no è per questo che chiedo forza alla Lega in Europa perché devo rivedere i vincoli imposti dall'Europa altrimenti non posso assumere medici non posso assumere architetti non posso assumere giudici e gli italiani scappano io voglio che gli italiani stiano qua e su questo l'Europa è decisiva eh meno male guardi che anche lei finalmente ammette che l'Europa è decisiva avevamo sentito altre cose in precedenza l'Europa si aiuta è decisiva se deprime ci lascia la precarietà a vita eh certo ma bisogna rispettare le regole sono uguali per tutti senta Salvini lei ha rivendicato quota 100 appena un secondo fa però il governo abbiamo l'impressione che parli malvolentieri del taglio che aspetta 6 milioni di pensionati a giugno possiamo dire che voi sul blocco delle rivalutazioni avete fatto la stessa cosa che ha fatto la Fornero no assolutamente no perché neanche un pensionato italiano prenderà nel 2019 meno di quello che ha preso nel 2018 avremmo voluto fare di più sicuramente e anche qua ci sono idem anche ripeto però la cosa fondamentale io vi ringrazio perché finalmente c'è una trasmissione che parla di Europa perché domenica gli italiani votano sull'Europa se non ridiscutiamo alcuni vincoli europei vecchi di 15 anni noi cresciamo dello zero virgola io voglio andare in Europa a ridiscutere pacificamente con i francesi con i tedeschi con gli spagnoli le regole dell'Europa e chiedo di usare per l'Italia i soldi degli italiani non voglio i soldi degli altri per tagliare le tasse che è fondamentale uso i soldi degli italiani e vedrai che se abbasso le tasse arrivano le aziende a investire in Italia i ragazzi lavorano altrimenti i ragazzi scappano e questo è il cuore dell'Europa o l'Europa della Merkel di Macron di Soros di Juncker dei vincoli e della finanza o l'Europa del lavoro della famiglia degli ospedali troppi ospedali abbiamo dovuto chiudere in Italia per rispettare i vincoli di spese europei sul diritto alla salute non si scherza però la domanda che il suo ragionamento si porta dietro è con quali soldi e quale autorevolezza abbiamo passato gli ultimi anni e lei è stato uno dei frontman di questa di questa battaglia anti-europeista a criticare ferocemente l'Europa che sarà stata anche l'Europa della Merkel ma era soprattutto le regole europee ma lei ha fatto due mandati da europarlamentare e avrebbe potuto contribuire essendo presenti è già un po' più facile riuscire a dialogare per trovare delle sintesi tra maggioranza e opposizione e da quando ha incarichi di governo sostanzialmente ha usato come cavallo di battaglia l'infrazione di questo tetto del 3% lo sforamento le faccio due esempi le faccio due esempi su come l'Europa aspetta un attimo la domanda è con quale autorevolezza e con quali forze si riesce a portare a casa quello che lei ha elencato finora visto che salvo stravolgimenti la parte politica con cui lei in teoria potrebbe fare accordi per ottenere questo non sarà maggioritaria nel Parlamento europeo che uscirà dalle urne domenica quindi è anche questa solo campagna elettorale cioè non converrebbe trovare una sintesi ragionevole con chi vincerà davvero queste elezioni non si può parlare di sondaggi ovviamente però con la Lega primo partito in Italia e fra i primi partiti in Europa la forza me la danno i cittadini me la danno gli elettori non me la do da solo ma io dialogo con tutti io andrò a dialogare con i tedeschi con i francesi con gli inglesi con gli spagnoli perché tutta Europa è ferma quindi cambiare le regole europee è interesse di tutti ma perché dovrebbero accettare di darci più flessibilità più soldi quando per anni abbiamo avuto sempre maggiore flessibilità io non voglio usare per gli italiani i soldi dei tedeschi o dei francesi io ricordo che gli italiani danno 6 miliardi di euro in più ogni anno all'Europa di quelli che tornano indietro le faccio l'esempio di due battaglie anche perché noi non siamo in grado di usare molti di questi soldi che ci spettano diciamo anche questo ed è per questo che l'autonomia serve per premiare chi fa bene e tirar le orecchie a chi fa male due battaglie voglio vincere in Europa che quando ero in Europarlamento all'opposizione ho perso perché le battaglie se le fai le vinci o le perdi una la tutela obbligatoria del made in Italy della nostra agricoltura della nostra pesca e dei nostri prodotti la Lega al governo mette un tricolore grosso come un quadro su tutti i prodotti perché chi va a fare la spesa sappia che cosa compra l'Europa fino ad ora ce l'ha sempre impedito arriva l'olio tunisino il grano canadese no no grazie all'Europa mi scusi abbiamo una tutela di molti prodotti anche italiani nel settore dell'agricoltura il finto made in Italy il finto made in Italy stando ai dati condiretti ci costa 60 miliardi di euro i prodotti italiani copiati o contraffatti quindi occorre la protezione obbligatoria dei prodotti italiani che sono i migliori al mondo anche per tutela dice Mariana Aprile che quello è un problema del controllo del territorio cioè la contraffazione non ha nulla a che vedere con i vincoli europei se si è in grado di aggirare i fenomeni che permettono il cosiddetto Italian sounding quindi il finto parmigiano è il finto mobile italiano la finta camicia italiana io voglio andare in Europa se gli italiani mi danno la forza a imporre la tutela delle mie aziende dei miei lavoratori dei miei prodotti secondo sul tema immigrazione voglio provare a fare in Europa quello che ho dimostrato di fare in Italia in meno di un anno controllare chi entra e chi esce è chiaro che se lo si fa a livello europeo è più facile soprattutto per le espulsioni perché se lo fai a livello europeo è più facile fare accordi con la Nigeria con il Pakistan con il Bangladesh con la Costa d'Avorio siccome diamo dei soldi a questi paesi oltre ai soldi l'Unione Europea ti chiede di riprendere indietro anche gli immigrati irregolarmente arrivati detto questo il calo degli sbarchi del 90% che tutti mi dicevano sarebbe stato impossibile è realtà ma no ma era già un trend in questo momento c'è un balcone con 80 persone che non è stato soccorso dalla marina militare italiana a largo della Libia non credo che sia questo il modo per ragionare è a 80 miglia mi scusi è vero la nave della marina militare italiana è a 80 miglia l'hanno soccorso i libici grazie ai libici adesso non è che possiamo andare a prendere qualcuno in tutto il mondo e portarli in Italia lei dice voglio fare in Europa quello che ho fatto in Italia in Italia si è limitato a non interessarsi della questione non facendogli arrivare e non interessarsi della questione di quelli già presenti qui che sono due questioni noi stiamo garantendo finalmente i diritti ai rifugiati veri ma lei come fa a sapere che su quei balconi non ci sono persone che hanno diritto all'asilo ma perché non si arriva col balcone in Italia non si arriva col balcone in Italia non sapendo nulla di loro quello è traffico di esseri umani con cui gli scafisti comprano armi e droga io non voglio essere complice da ministro e da papà quindi se a bordo ci sono dei bambini o persone che hanno diritto all'asilo li facciamo affogare arrivano in aereo questa settimana arrivano in 150 grazie a un corridoio umanitario che scappano davvero dalla guerra ma ne abbiamo fatti arrivare troppi negli anni passati di spacciatori scippatori stupratori è chiarissimo che aprire dei canali illegali di immigrazione sarebbe la ricetta ma sarebbe stata la ricetta anche già molti anni fa e alcuni canali sono aperti quest'anno entrano regolarmente 30.000 lavoratori stranieri anche perché l'Italia ha bisogno di questa mano d'opera io voglio chiedere una cosa aspetti Salvini siccome Di Maio oggi ha detto anche che sui rimpatri i risultati da lei prodotti non sono molto soddisfacenti tant'è che ha detto che ha fatto meglio di lei l'ex premier Gentiloni e in effetti lei aveva promesso marie monti in campagna elettorale ma guardi per la prima volta dopo tanti anni le espulsioni sono il doppio degli arrivi detto questo lo dicevo il problema si risolve meglio se l'Europa lavora insieme e quindi più Lega in Europa significa più Italia in Europa non solo più lavoro ma più espulsioni detto questo se io passassi le mie giornate a commentare Di Maio Renzi Zingaretti Berlusconi non farei il ministro dell'interno fortunatamente faccio il ministro dell'interno quello che state facendo entrambi sia lei che Di Maio e noi giornalisti rispondo zero va bene però perché allora lei dice che Di Maio assomiglia sempre più a Renzi in che cosa? me lo stava dicendo lei se dice che ha fatto meglio il governo del PD è abbastanza bizzarra però facciamo che sia il nervosismo da preelezioni il nervosismo da sondaggi da lunedì tutti sono più rilassati gli italiani finalmente scelgono una nuova Europa il suo sottosegretario Giorgetti però non sembra crederci perché lei lo saprà meglio di me che ha detto sta per grandinare e i deboli cadranno questo noi capiamo che in autunno saranno giorni e settimane molto difficili per l'economia e la tenuta dei conti lei è un'altra lettura e Giorgetti è un suo diciamo uomo tra virgolette io sono più ottimista e mi fido di più del prossimo degli alleati anche degli amici dei 5 Stelle gli italiani sono un grande popolo quindi se riusciamo a ridiscutere alcune vincoli alcune regole europee non cresceremo più dello zero virgola come negli ultimi anni ma se mettiamo soldi nelle tasche delle famiglie degli artigiani degli imprenditori abbiamo fatto un piccolo esempio quest'anno mettendo la tassa unica il 15% alle partite IVA che fatturano fino a 65 mila euro ma da dove li prende tutti questi soldi Salvini? le sto rispondendo nei primi tre mesi di quest'anno grazie a questa tassa unica hanno aperto in Italia 200 mila nuove partite IVA se tu semplifichi la vita a chi vuole lavorare e chiedi una tassa giusta la gente corre investe ci prova e lo Stato incassa di più perché se uno lavora paga le tasse perché il debito è aumentato in questi dieci anni perché meno gente lavora meno gente paga le tasse il debito cresce io voglio fare l'inverso se gli italiani lavorano paga le tasse e il debito scende quindi i soldi mi danno gli italiani che lavorano non li voglio dalla Merkel anche chi interpreta con i 200 mila nuove partite IVA come almeno per una parte contratti che non sono stati e che sono state partite IVA ma io vorrei tornare se è possibile su Giorgetti un attimo perché non capisco come si possa conciliare il suo ottimismo insomma legittimo e un'altra delle frasi interessanti dell'intervista di Giorgetti di stamani che è la sua disponibilità addirittura a fare un passo indietro se le cose non si rimettono in moto noi l'abbiamo sentita in questi minuti elencare i vostri risultati i vostri successi è possibile che sia proprio Giorgetti che è il suo uomo a Palazzo Chigi a non rendersi conto di quanto state facendo a parlare di immobilismo ma perché lui essendo in prima linea è frustrato dai no perché nelle ultime settimane ma lui parla di immobilismo lui dice voglio pensare che sia la campagna elettorale sullo sblocca cantieri bisogna fare più in fretta perché ci sono scuole da sistemare palestre da sistemare biblioteca di stile e per paura che qualcosa non funzioni che qualcuno rubi si ferma tutto allora se uno ruba lo metti in galera e butti via la chiave ma non puoi fermare l'Italia fermare gli appalti fermare le strade fermare le scuole quando Giorgetti dice che sta per grandinare io penso che da lunedì torneranno più tranquilli i 5 Stelle quando Giorgetti dice che sta per grandinare che cosa vuol dire? ah che c'è una situazione economica a livello mondiale non semplice lo scontro fra Stati Uniti e Cina la Germania che rallenta è chiaro che quindi dobbiamo fare squadra però l'Italia è la seconda potenza industriale d'Europa io penso che abbiamo i migliori ricercatori migliori imprenditori migliori ingegneri migliori operai sono convinto e ci vediamo fra un anno in trasmissione che se ci sarà una tassazione più bassa una burocrazia più semplice corrono a investire in Italia e l'economia italiana finalmente vola non saremo neanche qui a discutere io ci credo nel mio paese ci credo anch'io perché se no non saremo neanche rimasti ascolti Maroni che è un suo amico di lunga data perché avete fatto amico leghista e milanista ecco allora Maroni oggi ha detto di temere che la sua svolta nazionalista possa venire a danno della questione settentrionale lei teme che Maroni faccia una nuova Lega Nord? no guardi io sono orgoglioso dell'aver unito persone per bene sindaci per bene giovani per bene da Nord a Sud sarebbe stato più comodo per me stare in Veneto in Lombardia in Piemonte godermi i miei governatori in Friuli in Liguria avere il 30 al 40 al 50% e dire che mi interessa del resto d'Italia se vogliamo competere dobbiamo vincere tutti insieme e quindi Zaia Fontana e Fedriga stando a tutte le rivelazioni sono i tre governatori più efficienti e amati d'Italia e guarda caso sono i tre governatori della Lega senza togliere nulla alla mia terra alla mia Milano semplicemente voglio offrire lo stesso buon governo della Lega alla Calabria al Lazio alla Sicilia e alla Sardegna infatti abbiamo vinto in Abruzzo abbiamo vinto in Sardegna abbiamo vinto in Molise abbiamo vinto in Basilicata sì con Berlusconi avete vinto insieme ma lei lo sta snobando l'ha snobato in tutta la campagna elettorale perché snobando? ma no siamo su due posizioni in Europa diversa nel senso che forse Italia con il PD hanno governato sostanzialmente l'Europa da che esiste con i democristiani e i socialisti la Lega è sempre stata l'opposizione da che esiste l'Europa è la prima volta nella storia che l'Europa può cambiare che lei potrebbe entrare nel Partito Popolare Europeo dice una sciacchezza non penso proprio io mi posso alleare con chiunque mi aiuti a difendere gli interessi dei lavoratori italiani ma non entro nei partiti che hanno mal governato l'Europa per questi anni questo sicuramente no e senta Salvini lei esibisce con grande orgoglio madonna evangeli rosari insomma tutti questi simboli religiosi ci credo ci credo sono qui stiamo e cerco di testimoniare con il mio lavoro la mia fede ci sono milioni di credenti che non esibiscono niente mi tira fuori un rosario no no oggi mi hanno dato l'immaginetta di Padre Pio oggi mi hanno dato Padre Pio e spero che mi accompagni io ci credo credo che ci sia qualcuno sopra di noi che ci aiuta ci corregge ci accompagna e ci protegge non Matteo Salvini il popolo italiano ci credo allora non so se tutto il popolo italiano creda a quello cui crede lei in ogni caso diciamo che normalmente la questione della fede è una questione molto riservata e molto privata però lei non solo nei suoi comizi esibisce tutti questi simboli religiosi facendo anche un po' arrabbiare tutta una parte della chiesa cattolica ma ma non penso ha anche la sua piazza che fischia Papa Francesco non la imbarazza un po' chi l'ha fatto ha sbagliato anche perché il voto per l'Europa di domenica è un voto sul lavoro sicuramente sui giovani sull'agricoltura sull'immigrazione ma anche un voto sui valori io voglio andare in Europa a reinserire le nostre tradizioni qualcuno negò le radici giudaico-cristiane nella Costituzione europea pensa che follia fare finta di essere quello che non siamo era una questione che non si doveva mettere per iscritto una cosa che siccome l'Europa è un po' più variegata il cristianesimo tu puoi accogliere il prossimo se sai chi sei altrimenti aveva ragione la Fallaci che parlava di Eurabia se l'Europa si vergogna di quello che è se togliamo i crocifici dalle aule se cancelliamo il Natale non è vergognarsi della fede la fede è una questione privata lo Stato e la politica dovrebbero essere laici guardi Benedetto Croce diceva che non possiamo non dirci cristiani è la nostra storia è la nostra cultura è il nostro animo mi posso dare un dispiacere? ho scoperto oggi che San Matteo è il patrono dei banchieri e degli esattori glielo dico perché non depone a favore però ci sono anche alcuni banchieri quelle delle banche popolari di territorio che aiutano l'Italia e che l'Europa ha massacrato perché uno dei temi su cui l'Europa è stata devastante è stato quello delle banche e dei risparmiatori allora Salvini fermiamoci un secondo siccome lei è appunto il campione della battaglia identitaria ci sono però vari modi di rapportarsi agli altri e Paolo Pagliaro ce ne racconta uno pochi secondi poiché nelle scuole è tornata l'ora di educazione civica e poiché la rivendicazione identitaria è tornata ad essere il motore di ogni scalata politica di successo è vivamente consigliato agli studenti e ai loro genitori la lettura di un prezioso volume stampato in questi giorni da bollati boringhieri si intitola La verità degli altri e lo ha scritto Giancarlo Bosetti il fondatore con Norberto Bobbio e Vittorio Foa della rivista Reset la questione è nota quando la tribù allarga il raggio dei suoi movimenti verso altre radure altri boschi altre vallate scopre improvvisamente un'altra tribù che celebra riti con un altro palo altre danze altri canti altri totemi altri tabù questa scoperta è uno shock vista dalla parte di una tribù la scoperta della verità degli altri è come una ferita un tradimento la ferita poi si rimargina quando le cose vanno bene e quel che sembrava un tradimento diventa un beneficio ma ci vuole del tempo un nome adatto per questa guarigione è tolleranza un altro nome scogitato dai filosofi è pluralismo che vuol dire che siamo tanti e diversi mettersi nella testa degli altri è un esercizio fecondo perché riduce le possibilità di conflitto e Bosetti lo fa attraverso dieci storie che raccontano le vite dei più coraggiosi protagonisti del pluralismo dei loro percorsi lontani dalla retorica dello scontro di civiltà va da sé che il relativismo culturale su cui Bosetti indaga con l'aiuto tra gli altri di Cusano e Montegno origine e Isai a Berlin non significa accettazione diritti incompatibili con i diritti umani il numero dei valori culturali diversi e in conflitto tra loro può essere lungo ma non è infinito e non ci sta dentro tutto Matteo Salvini andare sotto il 30% domenica sarebbe una delusione per lei? Guardi abbiamo preso il 17% un anno fa e quindi tutto quello che viene sopra il 17% vuol dire che in un anno di governo abbiamo lavorato bene per gli italiani poi non pongo limiti da provvidenza ripeto saranno voti che useremo non per questioni italiane ma per cambiare l'Europa che torni un sogno l'Europa è nata con un bel sogno con De Gaulle De Gasperi ma adesso è la gabbia della finanza dello spread delle regole e quindi voglio che i nostri figli crescano in un'Europa che sogna non che si deprime e muore di precarietà così somiglia a lei a Renzi però te lo devo dire non so se porti bene è solo che io le cose le faccio qualcuno le prometteva l'Europa del sogno ricorda molto un altro Matteo anche perché in Italia penso di aver dimostrato che volere è potere volere è potere però a proposito di Formessa il famoso mazzo di fiori di scuse che lei mi aveva promesso l'ultima volta non è mai arrivato glielo volevo dire ma glielo voglio omaggiare di persona glielo voglio omaggiare di persona con dei cioccolatini fatti in Italia visto che stasera sarò a Novi Ligure patria del cioccolato i limiti di un maschietto mettete dei fiori arrivederci buon lavoro in bocca al lupo grazie arrivederci grazie a voi grazie Marianna Aprile buon voto grazie spettatrici e studiatori vi lascio a Corrado Formigli dove ci sono Mario Monti Luigi Di Maio Emma Bonino Roberto Maroni e molti altri insomma dovete continuare a restare qui con noi arrivederci noi ci vediamo domani grazie